Giuseppina Picerno, al secolo Pina, nata a Santa Maria Capoveteri in Campania, membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, con il ruolo di responsabile nazionale della legalità e del Sud. Dall'aprile 2014 candidata all'elezione europea come capolista nella circoscrizione Italia Meridionale ed in seguito eletta con 224.000 preferenze. Passata alle cronache per aver dichiarato a mezzo tv di riuscire a fare la spesa di due settimane con i famosi 80 euro concessi da Renzi. Oggi ha attraversato le vie del centro di Pescara al fianco del candidato PD Marco Alessandrini, un tour del centro città per incontrare e parlare con esercenti, commercianti e, come scherza lei, appena incontra i giornalisti, immancabile un giro al supermercato. Pescara vede il candidato Alessandrini appoggiato da ben sei liste di coalizione, due i giorni rimasti per il tanto atteso voto e poi i piani elettorali, ma come vede l'Abruzzo l'euro parlamentare? Sicuramente ci sono una serie di questioni che riguardano l'Abruzzo ma che sono evidentemente comuni a tutta Italia. L'altro giorno hanno diffuso, l'Istat ha diffuso i dati sulla disoccupazione, quindi è chiaro che dopo l'azione anche del governo, l'impegno del Partito Democratico e dopo aver accelerato sulle riforme, continuare in maniera dritta e sicura su questa strada dopo aver ricevuto anche un mandato chiaro dagli italiani. Un piano che unisce l'Abruzzo al resto d'Italia, secondo la Picerno che vede un'intera nazione accomunata dalle stesse problematiche, lavoro, occupazione, costo della vita e un futuro sempre più plumbeo. Per la prima volta si torna a parlare di contratto unico a tutele crescenti, per la prima volta si torna a parlare di assegno universale di disoccupazione, per la prima volta parliamo di formazione che accompagna chi perde il lavoro, quindi per la prima volta parliamo di un governo, di una politica, di uno Stato che non lascia più indietro nessuno. Una certezza però la ripete più e più volte, quella che Marco Alessandrini abbia tutte le caratteristiche per diventare il primo cittadino di Pescara. La sensazione è bellissima, abbiamo fatto un giro per la città, tanto entusiasmo, tanta partecipazione, tanta gente che ci fermava, ci conferma l'impressione che avevamo già. A Pescara si stravince perché abbiamo individuato un candidato competente, brillante, l'uomo adatto a questa città e che la guiderà verso insomma una svolta. Dopo aver cambiato verso in Italia cambiamo verso anche a Pescara, questa volta per davvero.